Turismo, bene, le prenotazioni per Pasqua, ma sono ancora lontani i numeri pre-crisi del 2007. Al forum Giannini si parla di turismo e PNRR, occorre investire su formazione e ospitalità diffusa. Fine dello stato di emergenza, da oggi meno restrizioni e si passa alla gestione ordinaria della pandemia. Il governo è al lavoro per un ritorno alla normalità anche per le visite nell'RSA in ospedale. Profughi ucraini, attivati dalla regione un numero verde e una sezione ad hoc del sito orientamenti, a rispondere operatori madrelingua sui diversi aspetti dell'accoglienza. Licenziamenti Ilex, Chiavari, nessun accordo al tavolo in regione, l'azienda non accetta la proposta di cassa integrazione, sindacati pronti ad altre proteste e chiamano in causa il comune. Dalla Fontana Buona ai campionati europei di e-sports abbiamo intervistato Antonaci e Badaracco, campioni italiani in carica di rally virtuale. Buongiorno a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Nonostante le prenotazioni per Pasqua registrino un tasso di occupazione delle strutture turistiche vicino al 75%, la Liguria fatica a riprendersi dalle difficoltà della pandemia e oggi legate alle conseguenze del conflitto in Ucraina. Il mercato langue soprattutto per quanto riguarda gli stranieri. Al forum Giannini di Chiavari si è parlato delle possibili strategie per incrementare i volumi e i valori del settore anche in ragione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sentiamo. La ripresa del turismo, 11 milioni e 800 mila presenze in Liguria nel 2021, non è ancora recuperato rispetto al periodo pre-pandemia. Ancora lontane le 15 milioni e 700 mila presenze del 2007, ancora da risalire il gap con il 2019. I dati di Giorgio Palmucci, presidente di Enit, collegato con il forum Giannini di Chiavari, confermano, mancano gli stranieri. Appena rieletto alla guida di Confindustria Tigullio, Giancarlo Durante suggerisce la strada a investire su un turismo diffuso che valorizzi i piccoli borghi, sulla scorta dei fondi del PNRR che puntano alla rigenerazione urbana. Noi abbiamo un patrimonio di valore inestimabile che è il territorio, sia la costa sia l'entroterra. Adesso i bandi del PNRR tra l'altro finanziano anche proprio il recupero dei borghi, per cui c'è una forte volontà di andare a recuperare strutture con insediamenti poi economici e produttivi e quella è una delle tante strade da seguire. Poi bisogna continuare a promuovere e a valorizzare il nostro territorio perché comunque i turisti sono affezionati alla nostra Liguria. Lo dicono i numeri anche per questa Pasqua, gli albergatori stimano delle presenze superiori al 70%, tante strutture sono complete. Quello che noi dobbiamo fare è migliorare continuamente il servizio che dobbiamo dare ai nostri turisti. Passare da una semplice vacanza a un qualcosa che diventa un qualcosa di indimenticabile. Forse investendo anche sulla formazione, lei diceva. La formazione è la base di tutto, per me intanto parliamo di giovani che sono l'asse portante del nostro futuro, del loro futuro, sono futuri lavoratori, futuri imprenditori, futuri manager di impresa. Per cui la formazione è un aspetto fondamentale che oggi ha a sua disposizione degli strumenti veramente qualificati. Tutto il sistema degli ITS è un qualche cosa che deve continuare a essere incrementato, ma soprattutto richiede un cambio culturale anche da parte delle famiglie. Cioè i ragazzi vanno indirizzati verso quelle professionalità che sono richieste dalle aziende. Anche perché poi alla fine di questi corsi l'indice di occupazione è vicino al 100%, se non quasi sempre il 100%, per cui è una forma di investimento per il futuro quasi certa. Intanto termina oggi lo stato di emergenza per la pandemia da coronavirus e ci sono alcune restrizioni in meno e cambia la gestione sanitaria da parte del governo. Ne abbiamo parlato con il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Sentiamo. Il virus non si estingue per decreto, ma la gestione della pandemia passa dalla fase emergenziale a quella ordinaria. Con la fine di marzo è terminato ufficialmente lo stato di emergenza in vigore dal 31 gennaio 2020. Cadono alcune restrizioni e cambiano alcune strutture a livello governativo. Non c'è più il CTS, la struttura commissariale e la divisione in colori delle regioni. Ciò non significa ovviamente fine della lotta alla pandemia, significa l'inizio di una fase ordinaria e con una gestione quindi diversa, ma che ci permette di continuare a monitorare la situazione, di valutare giorno dopo giorno. Ovviamente c'è ancora bisogno di prudenza. Si tratta di un primo step verso il ritorno alla normalità. Il secondo è previsto dal primo maggio. A guidare le scelte dal governo è stato il criterio della gradualità. Per il momento i luoghi in cui si è ancora lontani da una gestione ordinaria sono ospedali RSA, dove le visite sono ancora molto limitate e possono essere fermate a discrezione del direttore sanitario. Per quanto riguarda le visite nell'RSA, come governo abbiamo dettato delle linee guida e quindi abbiamo stabilito delle regole che siamo ancora convinti che all'interno delle nostre RSA ci siano soprattutto persone fragili che devono essere protette e tutelate e quindi credo che sia giusto e responsabile usare ancora un criterio di prudenza e di cautela, ma anche sotto questo aspetto arriveremo presto a una situazione di normalità. Uno dei punti di forza negli ultimi mesi è stata la campagna vaccinale con oltre il 92% di cittadini raggiunti. Anche per gli hub inizia una fase di rimodulazione. Anche qui, anche per quanto riguarda la campagna vaccinale, ovviamente passiamo da una fase straordinaria a una fase ordinaria. I grandi hub vaccinali sono stati fondamentali per permetterci di raggiungere in tempi brevi i percentuali importanti di vaccinazione. Oggi siamo in una condizione in cui il 92% dei cittadini italiani si è sottoposto a vaccinazione e quindi anche qui si passa ad una fase ordinaria che prevederà, qualora ce ne sarà bisogno, di programmare una campagna vaccinale con maggiori elementi rispetto all'anno fa. E si consolida con nuovi servizi la macchina dell'accoglienza dei profughi ucraini messa in moto dalla regione. Ad oggi, ha spiegato il presidente Toti, sono circa 4.400 i cittadini presi in carico dalle ASL Liguri, la maggior parte donne con minori, con circa 3.600 codici STP generati. Il fronte della formazione dei servizi resta quello più urgente e si è cercato di attivare nuovi strumenti per dare risposte immediate. Vediamo. Un numero verde, 800-93-88-83, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16, al quale rispondono operatori in madrelingua ucraina per dare informazioni di tipo sanitario o di prima accoglienza, passando per l'iscrizione dei figli a scuola fino all'apprendimento della lingua italiana. Una mail, ucraina-saloneorientamenti.it e poi la sezione bilingue del sito Orientamenti, interamente dedicata all'accoglienza con informazioni dai servizi essenziali alla ricerca del lavoro, dalla conoscenza della lingua italiana all'accesso alla scuola e all'adesione a iniziative sociali di formazione. Questi servizi attivati dalla regione Liguria per implementare la macchina dell'accoglienza dei profughi ucraini. Sapere come muoversi, come orientarsi per quanto riguarda le iscrizioni, soprattutto a scuola, questo è importante, sono circa 500 in questo momento di studenti iscritti al sistema scolastico Ligure, iscriversi all'università, partecipare anche, ed è importante che lo sappiano, ai corsi di lingua italiana che sono attivi presso i CPA, iscriversi ai corsi della formazione professionale che hanno messo a disposizione oltre 195 posti, laddove fosse importante e necessario, ma anche sapere dove andare per fare delle attività ricreative. 500 ad oggi gli inserimenti dei minori nelle strutture scolastiche della regione a fronte di oltre 2000 disponibilità arrivate da tutta la Liguria. Grazie alla collaborazione attivata con le associazioni dei consumatori, inoltre saranno attivi 26 sportelli distribuiti su tutto il territorio regionale, pronti a rispondere in presenza, con supporto linguistico, alle necessità della popolazione ucraina. Abbiamo attivato con la parte del sociale, per dare risposto ovviamente alle famiglie, anche degli sportelli fisici sul territorio, che sono quelli che abbiamo attivato con l'associazione dei consumatori, che già è stata vicina durante il Covid, e che presterà ovviamente questa azione, ovviamente saranno operatori adeguatamente formati, con i traduttori, e quindi anche lì ci sarà il bilinguismo per riuscire a dare informazioni e presidi su tutto il territorio, con le famiglie che andranno a recarsi fisicamente per avere tutte queste informazioni, e saranno appunto i 26 sportelli attivi sul territorio. Ora andiamo a Lavagna. Come ricorderete, con la chiusura dell'esercizio finanziario 2019, si era insediata la Commissione straordinaria di liquidazione per la gestione del pregresso, e con il compito di pagare coloro che avevano un credito nei confronti del Comune. In totale le richieste di rimborso avanzate sono poco più di 200. La pandemia ha rallentato di molto le operazioni, che sono entrate nel vivo soltanto alcune settimane fa. La Commissione ha proposto all'amministrazione che l'ha accettata una procedura semplificata per velocizzare i tempi e venire incontro ai creditori, ma che comporta una percentuale di rimborso del 50%. Chi ha accettato ha già ricevuto l'importo dovuto tra fine febbraio e i primi di marzo 2022. Ora, spiegano i membri della Commissione, guidata dalla Presidente Veronica Frassinetti, siamo in attesa del via libera degli altri creditori per andare avanti con i pagamenti. Parliamo di Ilex in questo momento. Il tempo stringe e all'orizzonte non si vedono soluzioni concrete per risolvere l'avvertenza. Parliamo del caso dei 22 licenziamenti avviati dalla ditta di Chiaveri, che si è concluso con un nulla di fatto, l'incontro svoltosi ieri a Genova, tra i tecnici della Regione, i rappresentanti dell'azienda e quelli del sindacato. La FIOMCGL, che ha ricevuto la solidarietà anche dei sindacati spagnoli, conferma la mobilitazione dei lavoratori che oggi hanno messo in campo 31 ore di sciopero e in vista di nuove manifestazioni, chiamano in causa il territorio, in primis, il comune di Chiaveri. Sentiamo Andrea Capitani. Ci sono stati spiegati alcuni tecnicismi, mentre la volta precedente, una settimana fa, abbiamo avuto un'espressione di grande solidarietà da parte delle istituzioni politiche, però. Ieri era un tavolo un po' diverso, era un tavolo tecnico. Una delle proposte messe sul tavolo è stata quella della cassa integrazione, uno strumento che potrebbe essere ancora utilizzato. Che cosa vi è stato risposto? C'è stato risposto di no. C'è stato risposto di no, ma non è neanche la prima volta. Noi continuiamo a insistere perché per noi è comunque un'ammortizzazione sociale da utilizzare, visto anche il momento in Europa del settore. E quindi ci sembra veramente assurdo che l'azienda voglia proseguire sulla strada dei licenziamenti senza prendere in considerazione un elemento conservativo dei posti di lavoro. Questo permetterebbe alla cassa integrazione di allungare i tempi e dare anche modo di approfondire quelle altre strade alternative come la ricollocazione e quant'altro che sono state proposte. Esatto, noi continuiamo a battere su questo tasto, noi continuiamo a battere sul fatto che gli esuberi potrebbero essere ricollocati all'interno dell'azienda e quindi avere anche più tempo per cercare delle soluzioni senza far perdere il lavoro a nessuno. È arrivata addirittura la solidarietà dei sindacati spagnoli, sempre legati all'Ailex. Sul territorio c'è altrettanta attenzione per questa tematica? Sì, noi abbiamo ricevuto un comunicato di solidarietà delle commissioni obrera spagnoli. Tenete presente che l'Ailex ha uno stabilimento di mille persone circa in Spagna. Purtroppo c'è un silenzio assordante da queste parti, silenzio assordante è quello del Comune di Chiavari che al di là di un atto dovuto che è il comunicato di solidarietà fatto all'inizio, non ha fatto nessuna azione, non ha portato nessuna azione concreta, nessuna proposta per cercare di contribuire allo sbocco di questa vertenza sul territorio. La Giunta di Rapallo ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della Scuola Media Giustiniani di Via Frantini. Sarà rifatto l'impianto elettrico, rinnovata la rete di trasmissione dati e realizzato un nuovo sistema di rilevazione incendi. L'investimento è di 500 mila euro, finanziato attraverso un bando del Ministero dell'Interno. E via a lavori urgenti a Santa Margherita Ligure dimessa in sicurezza di un tratto di via Croesa dell'Oro che nella toponomastica risulta parte di via Garibotti tra i civici 31 e 33, un'area di solito percorsa dai soli residenti della zona e che nel suo versante a valle rischia di cedere. L'opera di manutenzione straordinaria comporterà la demolizione e la successiva ricostruzione del tratto di strada con adeguato rinforzo sottostante. E ora parliamo del viaggio apostolico del Papa. Malta attende l'arrivo di Francesco, mancano poche ore all'inizio del viaggio che si svolgerà tra sabato e domenica. Accoglienza e fede sulle orme di San Paolo saranno questi i temi della visita segnata inevitabilmente anche dalla guerra in Ucraina. Situata nel cuore del Mediterraneo, Malta si prepara ad accogliere il terzo Papa della sua storia. Dopo Giovanni Paolo II nel 1990 e nel 2001 e Benedetto XVI nel 2010 è ora la volta di Francesco, un viaggio fortemente voluto da Bergoglio già annunciato per il maggio di due anni fa e poi rimandato causa pandemia. Una terra, quella di Malta, che ha ospitato nei secoli popoli come i Fenici, i Greci, i Romani e gli Arabi più recentemente dominata dai francesi, dagli italiani e dal protettorato britannico da cui ha ottenuto l'indipendenza nel 1964. Malta, e quindi caratterizzata da un'ampia diversità culturale, oggi porta d'ingresso per migliaia di migranti in arrivo dall'Africa. La maggior parte della popolazione residente è cattolica. Lui viene a rinnovare la fede dei Maltesi ancora una volta e ne abbiamo davvero bisogno. Quindi prego che tutto vada bene e spero di vedere il Papa molto presto. Siamo pronti ad accogliere il Papa Francesco con grande ospitalità e anche ad accogliere la grande notizia del Vangelo. Telepace seguirà in diretta i principali momenti del 36esimo viaggio apostolico ad iniziare dall'arrivo a Malta, sabato 2 aprile alle 10. Seguiranno la cerimonia di benvenuto, la visita al Presidente della Repubblica, l'incontro con il Primo Ministro, le autorità e il corpo diplomatico. Alle 17.30 saremo ancora in diretta per la preghiera che il Papa presiederà sull'isola di Gozzo. Domenica 3 aprile alle 10.15 celebrerà la messa, poi alle 16.45 incontrerà i migranti al centro Giovanni XXIII, Peace Lab. Verso le 18 il congedo da Malta e il rientro a Roma. Penso che sia un buon motivo di ripartenza per la fede, la fiducia della gente dopo questo bruttissimo periodo pandemico che ha colpito tutti quanti. Anche la nostra piccola comunità. 17 navi più una in attesa di conferma. A Santa Margherita Ligure riparte la stagione croceristica. Gli arrivi sono distribuiti tra maggio e ottobre. Si parte il 10 maggio con l'attracco della nave più grande prevista in rada con 3.250 passeggeri e che farà rotta in città altre 10 volte durante l'anno. Soddisfatti il Sindaco e l'amministratore unico della società Progetto Santa Margherita. Siamo lieti di Chiara Donadoni che sia ripartito un settore così strategico per l'economia mondiale e che Santa Margherita rimanga una delle mete privilegiate delle compagnie e che tutto ciò, conclude, possa portare vantaggi anche alle nostre attività commerciali. Ora siamo allo sport. Correre le gare di rally in una pista riprodotta virtualmente ma con un'esperienza di guida praticamente identica a quella reale. Sono lì e-sports, i cosiddetti sport elettronici e Mario Antonacci che vive in Val Fontana Buona ha vinto il campionato italiano 2021 e ha debuttato agli europei. Lo abbiamo intervistato insieme al suo navigatore Giovanni Badaracco. Sentiamo. L'anno scorso correva sui circuiti di tutta Italia rimanendo a casa sua in Fontana Buona. Quest'anno lo fa sulle piste in tutta Europa. Dopo la vittoria nel campionato italiano 2021 Mario Antonacci e il suo navigatore Giovanni Badaracco sono approdati alla competizione continentale. Un livello molto più alto, spiegano loro, anche perché in Italia gli e-sports, ossia le gare di chi prende i videogiochi molto sul serio, non sono ancora molto diffusi. I cambiamenti sono ovviamente la difficoltà in quanto non si parla più di piloti italiani ma si parla dei top di tutte le nazioni europee quindi più persone, più competitività e anche le prove sono cambiate in quanto corriamo su sette località europee mischiate tra asfalto e sterrato. Nella prima tappa si sono classificati quinti, la prossima è in Galles. Sono videogiochi e il livello di fedeltà è estremamente alto. Gli organizzatori della competizione creano il percorso e i gamer hanno alcuni giorni per prepararsi e correrlo, ovviamente collegati, da casa propria e poi si stila la classifica. Il gioco mi fornisce le note e io le devo dire a Mario. Ovviamente a volte le note non andavano bene in alcune prove, abbiamo notato che non andavano bene, lui mi ha detto, tipo un esempio, nei tornanti mi ha detto a volte di dirgli ritarda in modo da non anticipare troppo. Per Antonacci Badaracco il sogno del cassetto è proseguire la loro esperienza, un giorno correndo gare di rally vere e proprie. L'obiettivo più a breve termine invece è un altro. Sì, allora, grazie a Hyundai Motorsport Italia riusciremo forse a esordire come wild car a una gara del mondiale. La massima competizione in quanto sarebbe con una vettura VRC Plus e quindi il massimo della categoria e potremo essere a sfidare, se anche non in classifica, però comunque a sfidare in prima persona i campioni del mondo virtuale dei rally. Dopo due anni di sospensione causa pandemia torna il trofeo Lions Club Chiavari Castello, la regata velica giunta alla tredicesima edizione e promossa da Yacht Club Chiavari e Lions. Manifestazione che si terrà sabato 9 aprile ed è aperta alle classi ORC, International Club, IRC e Crociera. Di fatto apre la stagione agonistica 2022 di vela d'altura dell'associazione. L'iniziativa, lo ricordiamo, è benefica quest'anno a favore dell'Anfas di Guglio Est. Ora c'è la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli aggiornamenti. Il gas a velene rapporti, questo è il titolo scelto da Avvenire. Putin impone i rubli, ma i pagamenti potranno avvenire in un conto in euro, penso Gazprom Bank. Si evacua Mariupol intorno, però cadono le bombe. L'editoriale a cura di Andrea Riccardi, la soluzione necessaria, l'Italia torna nella partita diplomatica. L'intervista a Visco, ferite sociali profonde, il rincaro dell'energia, porta l'inflazione al record 6,7% e poi Draghi con Putin candida l'Italia al ruolo di garante della pace, leader russo, tempi non maturi per la tregua. E ancora fuori dall'emergenza, l'incognita quarta dose dopo due anni di emergenza legislativa e istituzionale per il Covid. Progetti insufficienti, asilo nido, nodo bande, verso nuove regole, 81.000 nuovi posti, ma è lavoro a tempo per l'occupazione. Oggi in edicola a Genova anche il settimanale cattolico Il Cittadino e che riporta le parole del Papa vogliamo la guerra e ancora il Papa e i Vescovi basta con la guerra. Accoglienza a profughi, Caritas per gli aiuti alla popolazione ucraina e ancora Ucraina e Russia consacrate al cuore di Maria in San Pietro venerdì scorso, ma anche nella cattedrale di San Lorenzo. E con fraternite l'incontro mariano avvenuto sabato scorso nella cattedrale San Lorenzo per la festa della Signora della Misericordia e poi assemblea a Gesci domenica 3 aprile convocate in presenza i capi scout all'anfiteatro di Forte Begato a partire dalle nove. E dal cittadino passiamo al quotidiano secolo XIX Putin chiude il gas questo è il titolo a tutta pagina del quotidiano genovese il ministro Lavrov fuori gli europei dai negoziati noi non ci fidiamo Erdogan lavora per organizzare un altro round di incontri. E poi non solo sindaci in Liguria test sulle coalizioni le elezioni il 12 giugno Genova Bucci punta sul bis al primo turno la spezia Peracchini e l'uscente ci riprova con nove liste chiava di centrodestra diviso tra due candidati e poi ancora scuola tornano 500 profe Novax solo in biblioteca e archivi le misure in Liguria decise dai presidi e poi si parla ancora di traffico su a 10 e a 26 entro Pasqua corsie chiuse anche senza cantieri autostrada rimuove 19 restrizioni e ancora Covid da oggi nuove regole addio Green Pass all'aperto e vediamo nelle pagine del secolo XIX dedicate al Levante Sestri e Rapallo rimangono senza gli hub così in Riviera torna la normalità unico presidio a Chiaveri Palazzo Ferden al Montallegro però l'ospedale di Rapallo rimarrà il punto tamponi drive-throw e quella degli over 60 è la categoria più restia al vaccino da immunizzare ancora 2700 persone Gli aggiornamenti dalla redazione c'è Giacomo Rizzi a te Giacomo Grazie Maurizzi un saluto a chi ci segue Arpal ha emesso un avviso per mareggiata intensa sul Levante tra oggi e domani già dalla notte questa notte infatti è previsto mare agitato sul centro della Liguria e molto agitato sul settore C che è il settore del Levante in cui è compreso il Tiguglio con mareggiate per onda lunga di Libeccio il vento sarà di burrasca e mare poi in scaduta dal mattino con residui mareggiati sempre sul settore C e poi il mare resterà comunque molto mosso dalla redazione è tutto la linea può tornare allo studio bene grazie Giacomo saranno giorni di instabilità dal punto di vista del meteo e causa mal tempo l'esperienza in barca prevista all'interno della rassegna Rapallo dello spirito originariamente prevista per domenica 3 aprile alle ore 11 è stata annullata confermata invece la conferenza del poeta Roberto Mussapi di sabato 2 aprile alle 18 al santuario di Montallegro ora invece vediamo gli appuntamenti per la giornata di oggi Gli appuntamenti di venerdì primo aprile proseguono gli incontri inseriti nel calendario dei corsi di cultura di Chiavari nella sala livellare di Via del Pino i professori Orecchi e Fiumicelli tengono una lezione di diritto intitolata legittima difesa facoltà eccezionale di autotutela appuntamento alle 16 nell'ambito di obiettivo creatività Lunaria Teatro presenta Palazzo Rocca di Chiavari il reading in forma di percorso spettacolare di Il Gatto Pardo uno tra i più celebri romanzi della letteratura italiana scritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa sarà interpretato dagli attori Vittorio Ristagno Alberto Carpanini Paolo Drago Rita Castaldo e Alesso Zirulia previsti due turni di rappresentazione alle 16 e alle 17.30 all'oratorio di Santa Maria del Campo di Rapallo il vescovo in merito di Mentimiglia Sanremo Monsignor Alberto Maria Careggio racconterà di San Giovanni Paolo II nell'incontro intitolato Un uomo un papa un mistico inizio alle ore 21 al Teatro Duse di Genova serata di cabaret con Daniele Raco inizio alle ore 21 i proventi saranno devoluti all'associazione Gigi Ghirotti Bene, siamo giunti al termine del nostro telegiornale l'appuntamento torna in diretta stasera alle 19.15 sempre contigui oggi grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata e buon suspense grazie a tutti Grazie a tutti.